Fratelli d'Italia oggi in Sicilia, tra Palermo e Catania, partiamo da Bageria dove abbiamo uno dei nostri candidati di punta, ma insomma siamo qui per dire in tutta la Sicilia che il nostro obiettivo è quello di portare avanti un lavoro già iniziato con la candidatura di Nello Musumeci, la vittoria all'Assemblea regionale e per continuare ad alzare la bandiera del Made in Sud. Noi siamo un partito nazionale, un partito di patrioti, vogliamo difendere il Made in Italy, a maggior ragione il Made in Sud che è la perla nelle perle e quindi abbiamo proposte da dare sul tema del lavoro, sul tema della difesa del prodotto, sul tema della difesa dell'azienda, della valorizzazione delle famiglie e per questo siamo qui. Quello che noi vogliamo fare è difendere l'interesse nazionale italiano anche in Europa, cioè quello che fanno le altre nazioni. Il lavoro che fa la Germania della Merkel non è il lavoro di difendere l'Europa, è il lavoro di difendere la Germania. Io penso che questo sia giusto, penso che sia altrettanto giusto che l'Italia difenda i suoi prodotti, le sue aziende, il suo Made in, la nostra forza sui mercati mondiali è data dalla specificità dei nostri prodotti, ma perché quel prodotto possa essere venduto, deve essere riconoscibile, non deve essere possibile contraffarlo e deve essere tutelato il marchio. È quello che noi vogliamo portare in Europa perché la tutela di prodotti come il pomodoro Pachino, se noi riusciamo a difendere quel marchio, ha un mercato completamente diverso a livello internazionale.